Qualche volta incontri qualcuno che richiede tutto l'amore che tu puoi dare. Adesso ripeti con me. Je fai. Je t'aime. E se perdi quel qualcuno, pensi che tutto il resto si fermi? Guardi dove va! Tutto bene, signore? Le andrebbe se l'accompagnassi a casa? Non è lontano. Sono un insegnante. Anch'io. E che insegna? Filosofia. E lei? I tuoi capelli sono come quelli di mia moglie. Spero che tu ami tua moglie. L'ho fatto. Lei è morta tre anni, due mesi e undici giorni fa. Che fai con mio padre? Sono sua amica. Non mi ha detto una parola su di te. Nemmeno lui mi ha parlato di te. Pensavo non avessi nessuno, sai? Come io non ho nessuno. Sono un padre orribile. Smettila di comportarti come se fossi l'unico che l'ha persa. C'è una crepa in tutto. Ecco come la luce entra. Tu sei la crepa del mio mondo. Notizie del mondo di Hollywood. Kevin Fidge, presidente della produzione Marvel Studios, ha annunciato che la direzione presa dagli studios è quella di sviluppare un film dedicato a una delle supereroine. Nello specifico, Fidge ha indicato l'eventualità di dedicare un film alla storia delle origini di Captain Marvel. Alcuni rumor inoltre affermano che Captain Marvel sarà introdotta in una pellicola entro il 2016. Addirittura si dice che si tratti di The Avengers Age of Ultron. Mi raccomando, voi mettete un mi piace sulla nostra pagina Facebook, antiprima cinema. E noi ci rivediamo al prossimo video.